buongiorno a tutti allora ebbene si ci siamo ci siamo siamo arrivati al numero 100 e lo scopriamo insieme alle creazioni resina allora non spaventatevi se non vedete niente qui ma sono tutte qui ammassate ci sono 10 strati ammassati come avete potuto vedere dall'immagine di la miniatura del video sono parecchie in realtà vedendole tutte ammassate pensavo di averne fatte di più e ho fatto anche un ho avuto anche un certo problema abbastanza grosso e ve ne parlerò alla fine del video ma adesso cominciamo subito cercherò di essere più breve possibile per non far durare il video 16 ore anche perchè se no mi ci mette tipo 16 ore appunto a salvarsi il video e lo vedete fra due giorni quindi non è il caso allora cominciamo subito sono tutte la dietro le creazioni adesso le prendo proprio a casaccio come capita e cominciamo allora tiriamo fuori queste ho fatto squirtle e charmander e la maggior parte delle creazioni non mi ricordo almeno come le ho fatte perchè ormai è passato un bel po' e in teoria io avevo fatto qualcosa a queste creazioni non le avevo mi sembrava di averci fatto qualche effetto non mi ricordo ma evidentemente mi sono sbagliata sono così sono semplici e sono appunto perlate dai sono carini comunque adoro poi questo colore di squirtle è sempre bellissimo poi qui cosa abbiamo un fiocchettino mi piacciono molto i fiocchettini quindi ho fatto questo oddio guardate com'è carino vediamo se mette a fuoco è di sembra bianco della fotocamera però non lo è è rosa molto molto chiaro pieno 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 di brillantini ci sono vari tipi di brillantini molto carino poi qui abbiamo un ingranaggio che ho fatto con dei glitter un po' strani ci avevo messo anche un po' di pigmento argento come si può vedere da dietro però sul davanti non si vede ci sono solo quei glitter un po' particolari poi a proposito di glitter ho fatto la spilla della quarta serie di Sailor Moon questa di solito la faccio con il scusate con il pigmento oro ma questa volta ho voluto provare con i glitter quindi bene vediamo un po' com'è venuta ah mi sono fatta malissimo dannazione alla resina che a volte è tagliente ok ce l'ho fatta oh mio dio ragazzi mi piace da morire diciamo che dietro qua si qua dove c'è poca resina è un pochino trasparente ma io direi che ci colo uno strato sottilissimo di resina oro qua dietro così non sarà più trasparente e sarà meravigliosa perché con tutti i glitter mi piace veramente tantissimo come sono contenta di questa è veramente bella a proposito di rosa chiaro come quella del fiocco che avete visto prima ho voluto fare un creeper rosa con i glitter e anche questo è un rosa molto chiaro e sì anche questo essendo molto chiaro dalla fotocamera sembra bianco ma vi giuro che è un rosa chiaro ma è troppo carino dai voglio adesso faccio una richiesta alla Mojang per avere tutti i creeper rosa bene poi passiamo a questo qui abbiamo questi due ecco questa volta li ho fatti molto diversi uno è semplice verde acqua vedete che io non riesco mai a farlo bene il verde acqua e questo è di un colore un po' ambiguo non saprei nemmeno definirlo e poi niente qui c'è la stella marina arancione con qualche glitterino dunque io ho cercato di fare più stampi possibile mi avevate chiesto di fare questo qui c'è un unicorno di usare tutti i miei stampi ehm ragazzi vedete che questi stampi sono veramente tantissimi ci metterò una vita se io li avessi usati tutti ne avrei usati più o meno dieci volte questi vedete voi la fatica che avrei fatto e quanta resina avrei usato comunque questo è molto carino rosso stranamente non l'ho fatto rosa nonostante sia un unicorno e poi vediamo questo che è un polpo uh che bellino mamma mia la messa a fuoco è fantastica mi scusi grazie è azzurro ma è bellissimo è un pochino sì è un pochino opaco io questo lo luciderei ci farei un anello non lo so è veramente molto carino ora passiamo a questo che non lo facevo da un pochino il bracciale a gatto mamma mia che brutto rumore che fa questo l'ho fatto da un po' di tempo spero che non si crepi perché appunto il rumore è un po' inquietante ma ok eccolo eccolo sta uscendo no si è rotto fantastico ragazzi fantastico no aspettate non si è rotto no la parte rossa non si è ancora asciugata cioè non so come sia possibile perché questo l'ho fatto come minimo una settimana fa però almeno non si è rotto e sì non è normale proprio per niente spiegatemi questa cosa l'ho fatto da almeno una settimana vabbè spero che lasciandolo fuori dello stampo si asciughi comunque è molto bello mi piace di questi colori questo è un rosso arancione super glitteroso e questo verde mi piace molto sì questo è molto carino ora io prenderei questo vabbè questo l'ho fatto un sacco di volte ma non resisto è troppo bello allora questo corallo l'ho fatto con vari scarti e sembra abbastanza carino da dietro di rendibì perché è lucido però vabbè questo si può lucidare tranquillamente poi abbiamo questo ecco questo fa no ok forse un pochino no niente allora perché questo qui di solito lo tiro fuori quando è ancora un pochino morbido e lo lo piego in modo da farlo diventare tipo un bracciale però a parte la parte nera che è ancora leggermente flessibile le altre sono troppo dure non si riesce quindi niente questo alla fine è inutile niente passiamo alla stella questa l'ho voluta fare tipo simitrasparente con qualche glitter ecco l'unico colore opaco che mi piace è il trasparente lo so non è normale ma va bene poi questo questa conchiglia verdolina di un colore un po' strano quest'altra è di un colore veramente brutto io ogni tanto ci butto gli scarti qua dentro e i colori a volte fanno un po' schifo perché li mischio sta qui non ce n'è ancora una carina ecco questa secondo me una volta lucidata è molto allora ma ce la posso fare questa una volta lucidata è molto carina secondo me anche i glitterini ecco questo doveva essere un tentativo di verde acqua in pratica il verde acqua è quello dello stampo e ho fallito miseramente ve l'ho detto fare il verde acqua non è così facile inoltre mi ero messa con gli stuzzicarenti a cercare di far andare la resina in tutti i dettagli eppure ci sono venute un sacco di bolle fantastico ora passiamo a queste che sono le pokeball questa non è mezza vuota è semplicemente gli ho fatto il retro trasparente perché avevo voglia di provare a farla così e vediamo un pochino il risultato da davanti eccola qui dai è carina il nero non è venuto molto coprente o meglio al centro non è venuto molto coprente però è carina e nel trasparente ci ho messo anche i glitter non è malissimo però sì se non fosse stato trasparente il nero sarebbe stato meglio mi sa ora tiriamo fuori questo qui mamma mia fanno tutti i rumori molto che tanti non ti rompere ok uh questa mi piace di più è un colore ambiguo anche questo è un arancione rosso con del giallo vabbè comunque è molto carina mamma mia devo tagliare intorno questa mi taglia anche l'anima secondo me poi vabbè questa è una semplicissima fragolina marrone ho voluto fare la fragolina di cioccolato e in effetti sembra davvero una fragolina di cioccolato e la cosa mi fa venire molta fame e niente questo fa un po' inquietudine se vi fanno paura i ragni perché è un ragno appunto però devo dire che è molto fatto bene questa cosa non so cosa sia però è molto fatto bene e questo opaco non mi dispiace è anche quasi ruvido sembra quasi un ragno peloso ok basta non voglio spaventarvi e niente poi la cacchina emoji l'ultima volta che l'avevo fatta avevo fatto un po' un disastro con i miei esperimenti strani e questa volta l'ho fatta oddio non è proprio un granchè sarebbe stata carina semplice marrone ma ci ho messo un po' troppi glitter forse non lo so vabbè ragazzi volete fare la cacca con i glitter no meglio di no perché per farla dovreste ingoiare e degluttire dei glitter ragazzi me l'avete chiesto in tanti eccolo qui ok siete pronti respiriamo forte preghiamo vediamo se la numero 100 è la volta buona si vabbè a parte che qua è sbavata un sacco di resina ma fa lo stesso ecco ce la facciamo ragazzi ce la facciamo ragazzi oh mio dio la puntata numero 100 è la volta buona sono riuscita a farlo guardate vabbè a parte anche qui della resina ecco anche qui ma dannazione mi è avanzata della resina dappertutto non c'è neanche una bolla ragazzi ci sono riuscita dopo solo 100 puntate di creazione in resina sono riuscita a fare bene questo fiocco eeeh ok basta sono esaltatissima ho fatto questo fiocco è troppo carino è di un bellilla e quindi niente sono contentissima ragazzi questa puntata sarà epica solo per questo va bene calma andiamo avanti questo pianeta secondo me è venuto bellissimo esatto dio quanto è bello mi piace un sacco e vabbè se c'è la tonalità del viola e del lilla giustamente e quindi ho fatto niente la parte davanti lilla e il retro viola con i brillantini come vedete è anche un pochino trasparente e niente mi piace tantissimo stavolta sapevo che c'era anche questa parte che non avevo mai notato e quindi sono riuscita a fare una parte qui giusta ok poi un joystick rosa perlato lo voglio davvero un joystick rosa perlato santo cielo ora vediamo se riesco a tirarlo fuori che può essere utile ok questo stampo non è mai facile da tirare fuori ma ce l'ho fatta e niente sapete che io adoro il rosa e il verde acqua abbinati quindi l'ho fatto appunto rosa e verde acqua ma i brillantini non mi fanno impazzire forse potevo evitarli però no dai è molto carino a parte questa bolla ma non è una bolla perché c'è proprio lo stampo che è fatto male ma vabbè pazienza allora questo l'ho fatto due giorni fa però vedete e si può tirar fuori penso penso oh mamma mia pensavo si potesse tirar fuori almeno è ancora così tanto poco asciutto cioè guardate qua guardate che roba vabbè sì cose normali mi preoccupo un po' perché questo se non sbaglio è anche il retro di una creazione gigante ma ok comunque è molto carino e niente lo rimettiamo dentro perché si deve asciugare ancora e non so perché ma vabbè questo non è niente alla fine del video vedrete e vi farò vedere e che ho avuto problemi molto più gravi di questo vabbè poi allora c'è questo il teschio messicano che adoro uno dei teschi messicani che adoro e c'è anche un pelucco qui eccolo qui questa volta l'ho fatto tutto con i colori tipo rosa fucsia eccetera eccetera ed è bellissimo sia a parte il blu però il blu ci sta bene e niente è troppo carino guardate che stavolta ci ho fatto anche il bianco super super glitteroso e quindi è molto bello questo blu è bello però forse doveva essere un po' più intenso così non ci sta poi così bene io intanto sto andando a 10 km per andare alle creazioni perché sono lontane e qui non è sbavato tutto fuori no è solo un'impressione non fateci caso e niente qui ci sono le due ali che sono di un arancione giallo non lo so neanch'io nulla di speciale comunque vabbè decenti poi tiriamo fuori il gelatuzzo questo qui non lo facevo da un po' e l'ho voluto fare di un colore un po' così mi ricordo un po' un gelato che ha preso l'altro giorno Simo che era tipo puffo e non avevo preso la menta però lui la menta piace quindi ci può stare e si questo cono è tipo al cioccolato fondente perché mi è venuto di un marrone super super scuro ma va bene ora aspettate un attimo che facciamo una bella cosa comincio a prendere creazioni le metto qua ok ora sono un po' più comoda questo non lo faccio da un anno e mezzo come minimo quindi tiriamo fuori allora questi due li ho fatti simili e anche gli altri due questo è sull'azzurro e questo è sul rosa sono semi trasparenti con le faccine più scure e oh mio dio sono bellissimi mi piacciono tantissimo vabbè ma si vedeva già che lo erano perché sono trasparenti e mi piacciono tantissimo vedete che sono semi trasparenti azzurri e rosa e ho usato per tutti gli stessi brillantini perché devono essere tipo abbinati e sono bellissimi oh mio dio mi piacciono un sacco perché ho smesso di fare questo stampo forse perché colorare le faccine è un po' una rottura ok in teoria in teoria qui c'è un pelucco di gatto in teoria vabbè è dannato gatto in teoria questi li avevo fatti con dei pigmenti fluo sia rosa che azzurro in pratica non sembrerebbe non fateci caso però vabbè qui ci sono c'è la resina che è più scura nelle faccine nell'altra le contrarie adesso ve le faccio vedere tutte e mi piacciono sicuramente di più quelle a destra però anche questo non è male però dovrei colorare un po' meglio la faccina dell'orsacchiotto però dai sono molto carini anche questi eh ok allora calma qui ce n'era uno ecco questo cioè guardate che roba sì vabbè a parte che adesso mi sono macchiata l'unghia questo qui è qui da almeno una settimana non so cosa gli sia successo non so come come farò a toglierlo vabbè lasciamo perdere quello questi sono quasi tutti i scarti quindi non penso che no quasi tutti ma non tutti quindi vediamo se mi esce qualcosa di recente da queste gemme oddio questo non è niente male con tutti questi verdi vedete che ci sono vari strati di verdi e sì questo è molto carino in effetti dai bella questa non mi dispiace ok devo ricordarmi questa di non tirarla fuori perché la tirerò fuori poi un giorno quando avrò il coraggio di sporcarmi dappertutto oddio questo cioè era partito bene nel senso che sotto c'è la punta bianca con i brillantini ed è bella e poi ci avevo messo tipo il grigio e il nero ma meh no non mi piace per niente vabbè poi questo qui cos'era non me lo ricordo avevo usato dei colori tipo bronzo e argento però e sembra questo sembra quasi una cosa di sabbia la parte qua mi piace quella sotto insomma però non è malissimo diciamo c'è di peggio è tipo questo e poi mamma mia sono taglienti non è così facile eccolo tiriamo fuori anche questo eccolo 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 questo è bellissimo sì mi piace moltissimo dalla fotocamera non rende molto ma questi sono proprio brillantini che vanno sul viola e sul blu e sono veramente bellissimi ok questo mi piace molto e infine oh mio dio è volato via e infine anche questo non è male perché è tutto sullo stesso rosa però tipo avevo messo anche i glitter quelli grossi che sono andati sul fondo e mi piace l'effetto che fa che appunto qui sono grossi e qui più fini non sono niente male devo dire guardandole tutte insieme poi sembrano molto carine a parte questa vabbè questa si salva la punta bianca e niente questa chissà che colore era non me lo ricordo poverino questo stampo va bene molto carine dai niente male poi quest'altro stampo che è un po' complicato da fare l'avevo fatto solo una volta quindi vediamo e insomma insomma questo cuore è un po' deforme ah eh sì non era fatto molto bene lo stampo c'è proprio il cuore dentro che non è fatto benissimo però vabbè non è malissimo inoltre non si vede assolutamente ma io avevo messo giusto in queste parti che sono divise uno smalto verde acqua il problema è che la resina dietro è diventata esattamente dello stesso colore quindi non si vede fantastico vabbè non è male comunque poi un'ala questa mi sa che è dello stesso colore si ha gli stessi glitter dell'ingranaggio di prima però senza l'argento poi qui c'è uno scarto e questo frappè che non facevo da un pochino oh che carino e stavolta mi sono ricordata che questa ciliegina ha la foglia quindi l'ho colorata avrebbe anche il picciuolo vabbè comunque molto carina rosa e azzurro mi piace sì e poi c'è ho fatto l'illa questa che è quasi abbinata quindi ottimo ci sta bene questi erano degli esperimenti ma sono sicura che siano venuti malissimo ma forse se fosse stato in uno stampo con un'altra forma non sarebbe venuto male però con questo non sta molto bene e non è male dai forse è più carino da dietro però e sì beh niente di che è un po' perlato con queste macchie strane povero Ivi e questo ah questa è la stessa resina del cameo di prima appunto era resina che mi era avanzata quello che non si è asciugato quindi lasciamolo direttamente dentro tanto come vedete non è niente di che è solo la sagoma di Bulbasaur poi qui c'è il cavalluccio ad ondolo e qui ci ho provato a fare qualche sfumatura ma si vede un po' poco qua sotto si vede ben poco però vabbè non è malissimo l'effetto poi da quanto tempo ragazzi non facevo questa meravigliosa conchiglia con il fiocco che io adoro troppo troppo sicuramente troppo quindi oh che bella mamma mia non avevo mai fatto un verde così tanto intenso e bello veramente bello non mi fa impazzire l'abbinamento con l'azzurlilla però è molto bello questo verde tutto glitteroso è molto sembra quasi fluo e dai vieni non so più devo ammassare la roba e niente questo secondo me è venuto molto carino l'ho fatto di due colori oddio mi piaceva di più da dietro forse perché qui tipo fa le bogne non è proprio mischiato sì mi piace di più l'effetto dietro semplicemente poi vabbè è opaco però non è malissimo ora passiamo questo stampino che mi piace tantissimo e poi è profumato allora ho fatto un osso arancione trasparente perché sai io sapete che io ho le osso arancioni trasparenti sì poi c'è questo nero che ha glitter dietro e non ce li ha davanti cosa ok io avevo provato qui a spruzzare dei glitter nello stampo e poi a colarci dentro la resina ma devo dire che non ha funzionato molto bene bello questo oddio già mi piacciono le sagome dei pipistrelli poi questa lilla super glitterosa è bellissima sì molto molto bello poi questa anche questa sagoma è bellissima o forse l'avevo fatto qui l'esperimento dei glitter visto che dietro non ce n'è nemmeno uno avrebbe senso forse è qui che ho messo i glitter nello stampo e questo è veramente bellissimo questa sagoma è stupenda mi è venuto molto bene poi verde acqua questo mi è venuto un po' meglio non so se si vede comunque sì è più carino ecco qua la differenza e questo poi è anche per lato vabbè magari lo è anche quello ma è opaco quindi non si vede vabbè poi ho fatto un emoji giallo fluo questo si dovrebbe vedere dalla fotocamera che è proprio fluo quindi ok andiamo a tirarlo fuori dai ci sei eccoti ok oddio guardate l'agglomerato che c'è qui sembra che abbia il naso vabbè solo io riesco a vedere queste cavolate è comunque bellissimo super fluo super brillantinosa molto carina sì 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 poi questo qui ho provato a farlo con vari colori e oh sì è venuto abbastanza bene devo dire mi piace fa dei colori che boh mi ricordano un qualcosa di quando ero piccola non riesco a ricordarmi cosa forse i vestiti che mi dava mia mamma quando ero piccola che non erano proprio la cosa più bella del mondo e niente passiamo a questo fiocchettino anche questo lo adoro e le do un po' che non lo faccio oddio quanto è bello ma vabbè ragazzi se una cosa è piena di glitter è bella per forza non c'è niente da fare quindi bellissimo questo oddio se sentite rumori strani non fateci caso della lavatrice poi abbiamo qui un cammeo fatto con due colori fluo quindi rosa e verde e si ragazzi è bellissimo oddio questo è veramente bello e sono commossa dal fatto che dalla fotocamera si veda che sono fluo in effetti dal vivo sono più fluo però vabbè è bellissimo questo cammeo oddio quanto è bello mi sto appassionando a fare i cammeo ragazzi come potrete immaginare sto lasciando tutte le creazioni più complicate e grandi quindi alla fine ora ho fatto un intero stampo di cioccolata vediamo un po' come mi è venuta allora oddio questa è bellissima ma che è sta ah si vedete che dietro hanno tutti più o meno si hanno tutti dei glitter viola non so se si vede non sono volontari quel giorno mentre stavo creando stavo usando i glitter viola ho usato il ventilatore e sono volati ovunque però meno male che da davanti non si vedono questa è bellissima perché è color cioccolato bianco ma è piena di brillantini bianchi quindi mi piace da morire poi questa invece è si ma a fuoco questa è se la mette a fuoco azzurra e gialla e qua dentro si è sfumata è diventata verdina quindi ottimo molto bella poi vabbè questa è viola si viola con uno di quei pigmenti un po' particolari che non mette a fuoco voglio piangere dai macchina fotografica oggi devi partecipare ecco così rende vedete che bel pigmento lascio la mano qui così tiene la messa a fuoco e vado avanti anche questa è bellissima adoro queste cose pastello con i brillantini bianchi e non riesco a trovarla dov'è qua oh questa non è niente male decisamente non sembra realistica però è molto carina con questi brillantini e basta pelle di gatto il bello è che il gatto non entra mai in camera mia quindi qual è il problema se il gatto non entra intanto si continuano a sentire altri rumori provenire dai vicini ma va bene questo è un verde con appunto sempre verde pastello con i brillantini bianchi ma guarda quanto bello questo wow questo è un rosa chiaro però è semi trasparente non è pastello con i brillantini quanto sono carine queste questo è lille invece con i brillantini guardate quanto sono belli tutti insieme cavolo se quel rosa fosse stato pastello sarebbero stati perfetti invece no l'ho fatto trasparente perché sono stupida questo è di tanti colori che bello questa è bellissima mamma mia mi sono venute bellissime ecco queste secondo me fa un po' schifo ma no pensavo peggio è solo che questa vedete che è anche di un colore diverso e usavo sempre questi due quindi questi si sono consumati e sono diventati opache come vedete questa è di più però vabbè si si vede che sono consumate e infine questa anche questa molto carina mamma mia ragazzi quante belle creazioni mi sto commuovendo non so più dove buttare gli stampi ok questa la sto facendo sempre lo so lo so portate pazienza ma mi piace troppo e secondo me è venuta bellissima come potete vedere visto che da dietro si vede e quindi niente dai che esce eccola qui oh dio santo quanto è bella mi piace da morire è bellissima ragazzi sono commossa ho usato in tutti gli stessi glitter mi sa che nel verde ce ne sono di meno ma fa lo stesso è bellissima mi piace da morire non so cosa me ne farò ma è bellissima se fosse più grande la potrei pendere come un quadro e se fosse più piccola la potrei usare come collana invece no bene tavola ouija pucciosa anche questa quanto è bella anche se non è molto realistica ma fa lo stesso e qui c'è avanzato qualcosa e niente è rosa con tutti i brillantini e oggi si ci sono un sacco di creazioni rosa con i brillantini tutte fatte in momenti diversi ma non lo so perché ero ispirata così ecco questi sono effettivamente degli scarti quindi abbiamo questo qui con i glitter bianchi e neri questa qui viola che è sempre bellissima madonna quanto è fatto bene sto stampo questa gemma che santo cielo mi dimentico che è opaca e quindi fa abbastanza schifo questa che ho fatto una fatica assurda per cercare di metterne più possibile perché come vedete praticamente qui in mezzo non c'è niente che la tenga è quasi volante però vabbè niente di che era un avanzo dell'unicorno di prima questo che voi mi dite che è un francobollo e io lo so ma io lo preferisco usare come biscottino quindi ci ho messo il marrone e infine la chiave oddio cos'è no ragazzi guardate qui vedete incontro luce che è pieno 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 di bolle ok questa non mi era mai successa vabbè lasciamo perdere meno male che è una creazione abbastanza inutile le ancore queste anche non le facevo da un po' non troppo ma da un po' sì e niente se riuscissi a tirarle fuori diciamo che sarebbe un po' meglio aiuto eccola 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 qua uh mamma mia quanto è bella guardate che bello questo azzurro super super brillantinoso adoro bellissimo e ora vediamo di tirar fuori questa più piccina mamma mia ragazzi queste creazioni sono taglientissime se non mi squarcio una mano sono fortunata ce la posso fare oh che fatica ok ce l'ho fatta bella anche questa meno realistica vabbè in realtà anche quella azzurra non è realistica però comunque verde e gialla con i brillantini è carina poi questo secondo me com'è che l'ho fatto sì questo era sempre quel marrone ne avevo fatto un sacco mi sa però vabbè volevo farlo a effetto biscottino e se non avesse avuto i glitter poteva sembrare un biscotto al cioccolato in effetti però vabbè non è venuto molto bene poi la gabbia toracica come l'ho fatta oh oddio ma è bellissima ho provato a fare un effetto un po' particolare e come vedete è venuto molto bene come vedete c'è qui del verde qui qui del viola e poi qui del blu e niente è bellissima non pensavo che mi sarebbe venuto così bene no vabbè basta sono commossa oggi troppe cose belle però vabbè quando si fanno 6000 creazioni qualcosa di bello deve venire per forza anche questi sono proprio scarti anche perché mentre usavo lo stampo mi sono ricordata che queste creazioni appunto di questo stampo non vengono mai molto bene fanno un pochino chifo non sono belle cioè boh forse sono troppo realistiche sembrano effettivamente le leconchiglie vere quindi comprese di imperfezioni eccetera e quindi non mi piacciono ahia questa è puntitissima potrei ucciderci un po' qualcuno meglio di no questa qui si vedete boh sono quasi troppo realistiche non mi piacciono proprio per questo vedete sembra dalla forma non dai colori sembra che io li abbia proprio tirate fuori dall'acqua questa però è bellina dai però si non mamma mia questa è rugosa e questa è minuscola oh piccolina e si però boh non mi dicono niente sono boh troppo realistiche proprio quindi niente poi oh eccolo qui queste due sono le creazioni che avevo fatto con i colori fluo e poi me ne era avanzato un pelino e ho fatto il cameo e oh mio dio calma quanto è bella è rosa fluo con un pelino di perlato ma quanto è bella dalla fotocamera sembra un rosa molto intenso dal vivo fidatevi che è molto fluo ed è bellissimo oddio mi piace tantissimo vediamo quella verde anche questa la stessa cosa è meravigliosa sono bellissime e questa sembra un sembra quasi la pasta le forfalline tipo e sono bellissime oddio sono bellissime basta poi questo vi ricordate che avevo detto che per fare quell'effetto della goccia d'acqua che si spande mi era venuto in mente un altro metodo ha fallito miseramente quindi questa farà schifo esatto sembra semplicemente del pigmento buttato lì a caso io avevo provato a buttare una goccia di pigmento e dentro una goccia di resina sperando che facesse l'effetto com'è che si chiama l'effetto marble quello che si fa che si usa per le unghie e invece no perché la resina buttando la goccia di resina nel pigmento il pigmento non si apriva non diventava trasparente quindi niente poi ho fatto questo cammeo a castello carino niente di che è argento con i glitter argento e sì pensavo che venisse un po' più brillantinoso però forse perché è il semi opaco però vabbè non è male poi c'è la scritta cute vediamo un pochino che bella mi piace molto è tipo non riesco a capire se si è un viola scuro con questi glitter che sono bellissimi molto molto bella questa oh mio dio ragazzi come ho potuto lasciare quasi alla fine quasi proprio quasi alla fine questo stampo che amo tantissimo non faccio da un po' è che ho fatto con colori meravigliosi quindi vediamo com'è venuto no vabbè ciao ciao questa creazione meravigliosa oddio guardate qui non so quanto possa rendere l'effetto scintillante di questa creazione ma è bellissimo mi piace da morire questo fiocco è sempre troppo bello e con questi colori stupendi poi proprio manco a parlarne è meraviglioso ah sì con gli stessi colori evidentemente mi erano avanzati un pochino ho fatto questa piccola conchiglia e oddio anche questa è bellissima per quel che voi potete vedere metti a fuoco è bellissima madonna quanto sono belli questi pigmenti non sono iridescenti sono boh non lo so qualcosa bene vediamo questa luna ma che orrore è orribile allora vedete che è un colore un po' ambiguo avevo provato a mischiare nero il pigmento nero il pigmento giallo visto che la luna in teoria è gialla anzi no 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 non c'era il pigmento nero era il pigmento giallo e ci ho messo dentro una tonnellata di glitter neri però è oddio veramente orribile no questa non mi piace per niente vabbè non possono essere tutte perle ora passiamo a questo stampo qui ci ho fatto l'obiettivo argento e il resto è lilla poi ho provato a fare la tour e fell di un colore un po' più realistico cioè bronzo credo ah beh sì no e ma faffanbrodo avevo provato a mettere giusto un pelino di pigmento oro e poi doveva essere appunto bronzo ma è tutto oro cioè non si vede assolutamente il bronzo alla faccia del pelino di pigmento oro vabbè niente ho rovinato la creazione poi c'è questo qui ecco questo si vede un po' di più che ha delle sfumature argento non è tutto argento almeno e poi è di questo colore che non capisco cosa è sembra un blu scuro vabbè comunque è più carino questo poi vediamo un po' vabbè il semplice teschietto lilla eccolo qui nulla di che è proprio semplicissimo i baffettini penso che siano uguali alla scritta cute esatto molto carini mi piace molto questo abbinamento di colori di glitter e infine ah no infine nel senso che è l'ultima creazione che ho qua davanti c'è un cappello incastrato dunque questo per me farà schifo sì sembra nero ok sì e parliamone io avevo preso avevo riempito tutto di resina trasparente poi ho preso i pigmenti quelli liquidi e ci ho messo tipo giallo 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 poi verde 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 fino a ricoprire tutta la superficie trasparente di qualche macchia colorata e niente alla fine si sono mischiati è diventato un cameo nero vabbè ok cose normali orribile ora questo mi hanno consigliato di provare a metterci tipo del sapone liquido dentro e per tirarlo fuori vediamo se ci riesco nulla ho lasciato perdere non riesco a tirarlo fuori quello stampo veramente l'odio da morire non so come facciano alcune persone ad usarlo ma vabbè andiamo avanti questo stampo l'avevo usato una sola volta ed erano venute le creazioni anche abbastanza male perché erano piene di bolle quindi ora mamma mia ok vediamo uh non è venuta neanche una bolla è stato difficile riuscire a inserire la resina qui senza per appunto non farci arrivare delle bolle è giallo pastello con i brillantini ed è molto molto carino non so cosa me ne farò effettivamente nella scritta happy birthday però vabbè poi c'è questo che è appunto il lomino della fua fua perché questo è uno stampo di quella marca e oddio è troppo carino sì ho fatto dei colori pastello super brillantinosi che secondo me avranno reso le creazioni tutte molto carine mamma mia che bel rumore questo stampo è quasi rigido quasi oh che bello sì sono venute molto carine molto bello ho usato i pigmenti pastello quelli dell'area schimica e oddio sono troppo carini questi sarebbero tipo di biscottini mi piacciono un sacco quindi mamma mia che bei rumori sembra che si stia crepando tutto ecco qua bello mamma mia questo è bellissimo mi piacciono un sacco queste forme non so perché bellissimo e non so quanto rende il fatto che sia pieno di brillantini bellissimo poi anche qui ahia che male mi sono fatta malissimo anche questo è l'omino della fuofua carino sono troppo belline questi stampi bellissimo e infine il come si chiama il biscotto rosa che sembra bianco perché è troppo chiaro oddio è bellissimo anche questo sì molto 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 bello ok ora devo allungarmi di nuovo ho messo gli stampi troppo lontano ok allora altro teschio messicano mamma mia quanto è bello questo stampo oddio è bellissimo non volevo colorare la bocca perché secondo me avrebbe un po' stonato perché la volevo fare nera però stonava un po' e però sì così non è un gran che penso che la colorerò adesso anche perché il resto mi piace tantissimo con questi colori un po' pastello appunto molto bello ora questo stampo non l'ho mai usato ed è della reschimica si trova con il loro box e ci sono appunto questi animaletti allora sappiate che alcuni animaletti non hanno i dettagli perché non ci riuscivo per esempio questa l'ho fatta semplicemente marrone ed è come vedete una come si chiama una scimmia ha solo gli occhi neri però per il resto ho lasciato perdere ho provato a farla così e basta poi c'è il leoncino questo invece i dettagli dovrebbe averli esatto oddio questo è troppo carino guardate quanto è bellino cos'è c'è una macchia bianca qui vabbè poi metto a posto l'occhio comunque molto molto carino questo poi c'è questo è l'ipopotamo pesci che carino non si è mescolato molto bene il grigio però vabbè è carino sembra un pochino sporco così diciamo che è un pochino più realistico poi c'è l'elefante vediamo un pochino oh che carino sembra è tutto grigio boh non sapevo cos'altro colorarci sinceramente ma che carini i piedini così mamma mia ragazzi cioè guardate la montagnola che ho qua di fianco vabbè ok ora cos'era questo ah l'orsacchiotto è carino però sì anche qui tipo non ho colorato la pancina i piedini eccetera però vabbè quelli li posso colorare e infine la ranocchia questa mi pare sì non c'era molto da colorare nella ranocchia oddio ma è bellissimo ok questa è la più bella ho colorato un po' da schifo gli occhi però vabbè è troppo bella oddio no mi piace un sacco questa bene quindi via lo stampo allora sto dando un'ottiate in giro ci sono rimaste solo creazioni con lo sticker e voi vi starete chiedendo ma gli stampi di ieri il disastro di cui vi parlerò alla fine riguarda quelli santo cielo vabbè andiamo avanti ah no scusate questi non sono quegli sticker però erano sono belle grandi quindi me le ho dimenticate giusto per farvi vedere la differenza di grandezza cioè eh sì sono molto grandi li ho comprati da pochissimo li ho comprati sabato questi stampi vediamo come sono venuti quindi abbiamo l'uminio di pan di zenzero dai mamma mia non riesco a tirarli fuori che fatica ragazzi ok ci sono riuscita ah sì sono tutti due opachi però devo dire che è molto carino a parte che è troppo grande e non ci sta nell'inquadratura essendo opaco sembra più un biscottino appunto lo strato questi strati qua sono un pochino troppo alti però vabbè lo stampo è fatto così non posso farci molto comunque è veramente troppo bellino questo mi piace molto oh yes questo mi piace sono soddisfatta questo mi spaventa un po' è un cupcake ovviamente come potete vedere e vediamo un po' com'è venuto oddio ma è bellissimo è bellissimo ragazzi mi piace tantissimo è spettacolare ok basta sono commossa e mi piace tantissimo questo essendo bello grande penso che si possa proprio appendere al muro come decorazione anche opaco nonostante i brillantini mi piace moltissimo ma vabbè contentissima di questi stampi veramente non pensavo che sarebbero venuti così bene evviva ora vediamo un po' sto guardando un pochino in lontananza cosa mi è rimasto prendiamo prima quelle più piccole se piccole si possono definire eccole qui allora io partirei con via via con questa che vi ricordate che l'avevo fatta nello scorso video e non si era asciugata adesso con tutta la sua calma si è asciugata e vediamo come è venuta oddio è bellissima mi piace tantissimo questo sticker stilizzato con luna cioè la luna vera e luna il gatto l'ha scritta se l'ormoni fiorellini eccetera eccetera e mi piace tantissimo meno male che si è asciugata perché effettivamente mi piace molto mamma mia quanta roba ragazzi poi eeeh questi li ho fatti da un po' non mi ricordo più cosa sono vabbè oddio quanto mi è venuta spessa ho fatto lo strato troppo lo strato trasparente troppo alto oh che carina vabbè questo è molto semplice cioè ci sono questi personaggi della sanax con l'anguria e dietro l'ho fatto appunto di un colore che ricordasse l'estate e se non sbaglio questo dovrebbe essere simile mi pare visto che l'ho fatto sempre arancione per ricordare l'estate sì esatto anche questo ricorda l'estate perché ci ho fatto ci ho messo tre ghiacciolini tutti messi nello stesso modo e mi piacciono molto molto carino molto semplici ma molto carino questi sticker erano davvero belli poi qui ho usato quel bellissimo colore che avevo usato lo stesso pigmento di questo e che cos'è che c'era ah sì ora mi ricordo guardate che carini oddio ma è bellissimo ho usato questi sticker che se non penso sempre della sanax a parte che questo sticker sia un po' piegato poi ho messo qualche glitter azzurro sparso e dietro quel pigmento tipo non è ridecente non lo so come si chiama però è bellissimo e niente non è niente di speciale però è carina ora andiamo avanti qui cos'è che ho fatto ah questa secondo me è molto delicata è molto carina vediamo un po' uh guardate che bella mi piace un sacco l'unica cosa che non mi fa impazzire è che le spruzzate a casaccio di oro che ho usato sono un po' troppo pesanti dovevo farle un po' più leggere però è molto carino anche questo qui magari da appendere visto che comunque è abbastanza grande cioè vedete che le creazioni normali sono molto più piccole sembra molto carino ottimo bene ok anche questo è molto carino mettiamo via lo stampo e questo cos'era ok anche questo devo un attimo connettere tutti quanti madonna di solito non sono mai così tanto asciutte quando le tiro fuori oddio che meraviglia se sappiate che qualche creazione di Sailor Moon c'è anche una gigante spoiler e niente è bellissima a parte il fatto che questo pigmento che è quello rosa fluo non si è mescolato bene ha fatto queste macchie però in effetti forse è meglio così perché se non ci fossero queste macchie sarebbe proprio un po' più noiosa la creazione se così si può dire un po' più vuota e quindi è molto carina e appunto ho voluto mettere lei seduta di lato con qua il nulla alla fine però mi piace devo dire che è molto carina a parte che mi sa che sto sticker è un pochino assorbito nei lati vabbè poi anche queste di Sailor Moon vediamo un po' com'è venuta dai guardate quanto è carina ho voluto fare visto che avevo questi sticker che sono proprio tagliati così ho fatto tutti e due i lati in cui ci sono varie espressioni di Bunny quella spaventata quella innamorata quella sonnata quella imbarazzata quella felice quella ehm eh sì cos'è sta cosa vabbè è tipo incredula ecco una roba del genere molto carina con lo sfondo di questo rosa un po' particolare e vari tipi di glitter mi sembra molto carino questo cioè boh ha tutti e due i lati non mi dispiace ora ragazzi prima di passare a spiegarvi tutti i disastri lo sapete ve ne siete accorti immagino dalla miniatura ci sono le creazioni giganti io passerei io partirei da questa perché è è a metà questa creazione è a metà ehm devo per forza madonna santa cos'è devo togliere questo devo per forza toglierla così a metà e il perché è il motivo per cui mamma mia no mi sto sporcando tutta di resina calma allora no non toccare le altre cose vedete che qua davanti c'è una specie di strato di resina perché lo strato dietro non si è mai asciugato quindi ho dovuto vuotarlo via e un pochino questa creazione si è alzata e quindi si è macchiata così sembrerebbe carina e poi ci farò uno strato dove volevo fare tipo un mix tra lilla e argento perlato chiaro insieme e il pochino secondo me ci starà bene però prima devo riuscire a pulirlo quindi il motivo per cui lo strato dietro non si è asciugato è lo stesso per cui ho fatto un disastro quello di cui vi parlerò dopo ma ne parliamo appunto dopo mi sono sporcata mi vado a lavare arrivo subito e vabbè speriamo che le altre siano meglio allora questa diciamo che non so come mi possa essere venuta nel senso che secondo me non è niente di che mamma mia se è grande fate spazio ce la faccio ok per gli amanti di questo anime questa sarà molto bella forse e niente di che in realtà allora ve la faccio vedere un po' meglio lo sfondo l'ho fatto in teoria azzurro e rosso per stare a tema appunto con la scritta però come vedete sono venuti abbastanza trasparenti questi pigmenti vabbè e poi ci sono appunto Nami Nami, Sanji e Zoro ok mi stavo perdendo i nomi e però vedete che la scritta è storta era dritta finché io finché io stavo controllando appunto che stessero dritte poi sono uscita quando sono tornata a casa la sera ho guardato le creazioni e questa era storta fantastico e poi niente qui c'è un banchetto e quindi niente è gigante ma non è proprio niente di che vabbè pazienza anche i due scatole e anche se fosse stata dritta però non mi faceva impazzire non lo so boh vabbè diciamo che mi aspettavo di meglio ora devo riuscire aiuto non ci arrivo ok ci sono arrivata questa creazione pesa più o meno 600 kg e anche questo è uno stampo nuovo che ho comprato apposta per questo speciale ed è un cupcake non so se così si dovrebbe vedere visto che è un attimino gigante nell'inquadratura non ci sta come faccio a tirarlo fuori anche questo l'ho fatto da più di una settimana e sono curiosa cosa cos'è questa cosa aiuto perché ci sono alcuni c'è qualcosa che non si è asciugato bene insomma vediamo di tirarla fuori tutta oddio ragazzi allora si è meravigliosa mi piace tantissimo ma il verde qual è il tuo problema verde guardate appoggiamo un attimo qui è appiccicoso ma che è sta vognetta vabbè forse c'era lo stampo ha messo un po' male cioè solo in alcuni punti il verde non si è asciugato non lo so come risolvere voglio risolvere perché essendo enorme e molto bellina come vedete la voglio tenere anche questa magari da appendere e non lo so magari la lascio un po' fuori sperando che si asciughi in caso ci passo sopra un altro strato di resina non lo so comunque mi piace tantissimo anche perché potete immaginare la fatica che ho fatto per mettere tutti questi colori oh mio dio sono quasi impazzita però è molto molto bella veramente questa creazione peserà mezzo chilo ci ho messo mezzo chilo di resina almeno ok questa mettiamola via per farla asciugare e rimane l'ultima creazione gigante e poi passiamo al problema e poi il video è finito allora vediamo un po' questo qui era lo stesso colore di quel cameo di prima diciamo che riesco a tirarla fuori però si non è molto asciutta diciamo spero di riuscire a tirarla fuori sì ci riesco perché riesco a capovolgere lo stampo ok è fuori ho molta paura perché se è venuta bene l'amerò da morire 3 2 1 oddio beh insomma non è perfetta ma appoggiamola eccola qui e non è perfetta nel senso che in controluce si vede lo scotch perché questa è effettivamente un'immagine ma che cavolo ma che è successo qui ok questa mia nuova una bolla gigante qui ok devo trovare in modo di metterci una cornice anche perché se vedete bene i contorni non sono proprio perfetti si vede un pochino il colore dietro e sì devo trovare in modo di metterci una cornice perché comunque è molto bella bello questo quadrettino adoro queste immagini di Sailor Moon che si sta trasformando e sì come vedete è molto grande anche e niente se trovo un modo di metterci una cornice o qualcosa qui per coprire è molto 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 bella allora intanto vi faccio una panoramica della confusione assurda che ho qui intorno ammirate che bello vabbè ora vi faccio vedere l'ultima cosa allora ignorate il pavimento che si è pieno di macchie di resina ovunque queste come vedete sono creazioni fatte con gli stampi che mi sono arrivati ieri ero molto contenta non vedevo l'ora di usarli per le nuove creazioni c'è un piccolo problema io queste le ho fatte ieri verso le tre guardate qui guardate che roba sono tutte così tutte io non ho capito assolutamente il problema l'ho chiesto anche a quello della reschimica e visto che è successo con queste creazioni e con il retro dell'altra e quindi sempre con lo stesso con lo stesso barattolo di resina l'unica cosa che può venire in mente visto che la resina comunque non scade è che magari il barattolo di resina del componente A che ho usato o il B non lo so magari hanno sbagliato a metterci le etichette in realtà quindi invece di aver usato il componente A e B ho usato due componenti A o due componenti B il problema è che adesso non so come fare a pulirle tutte queste creazioni sono tante da pulire e soprattutto se si rovinano questi stampi potrei uccidermi perché sono nuovi e come sapete non li ho mai usati a parte qui quindi niente sono molto contenta di questa cosa fantastico e niente piango aiuto bene ragazzi questa era la puntata numero 100 non oso immaginare veramente quanto duri questo video comunque mi sono molto soddisfatta delle creazioni ce ne sono alcune veramente bellissime mi piace molto il cupcake gigante mi piace molto questa a parte questo di fettuccio mi piace moltissimo questo cupcake e poi vabbè ce ne sono un sacco che mi piacciono ma sono così tante che non me le ricordo nemmeno tutte fatemi sapere qual è la vostra preferita o le vostre preferite ah mi avete chiesto in molti se continuerò a fare le scopriamo le creazioni certo continuerò a fare il 101 il 102 eccetera e niente noi ci vediamo domani col prossimo video ciao ciao